Violenze e femminicidi Fino al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la facciata del Palazzo del Pegaso sarà illuminata di rosso, il colore che simboleggia la lotta contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne. I messaggi del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo e Stefano Scaramelli. Regione, dia libera la terza variazione al bilancio. L'Aula ha approvato le modifiche alla nota di aggiornamento del DEFRE 2023, la terza variazione e gli interventi normativi collegati, con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario dei gruppi di opposizione. Un minuto di rumore del Consiglio regionale per ricordare Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal fidanzato nei giorni scorsi e per le altre donne vittime di femminicidio. E al centro dell'Aula, sopra la bandiera col Pegaso, un paio di scarpe rosse. E ancora il Palazzo del Pegaso, illuminato di rosso, fino al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono le iniziative simboliche attraverso le quali il Consiglio regionale della Toscana vuole testimoniare la ferma condanna delle violenze e dei femminicidi, i cui numeri continuano a crescere tragicamente, e la solidarietà ai familiari delle vittime. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza dopo il caso di femminicidio di Giulia Cecchettin, la cui vicenda occupa le cronache da giorni. In luogo del minuto di silenzio che era stato richiesto dalla consigliera Irene Galletti, il vicepresidente Scaramelli ha chiesto all'Aula di manifestare un minuto di rumore, così come chiesto dalla sorella di Giulia Cecchettin. La violenza sulle donne, la violenza domestica è sicuramente un fenomeno ancora troppo largo, anche se abbiamo proposte di legge, obiettivamente il problema è un problema culturale, di informazione, di preparazione. Le nuove generazioni femminili, ma direi non solo femminili. Io credo che dovremmo ripartire anche da una cultura sul genere maschile, che deve ritrovare un suo ruolo, deve abituarsi a una compagna che è diversa da quella di un tempo. Quindi il problema è un problema obiettivamente culturale. Io, nella mia esperienza, essendo un medico di pronto soccorso, sono stata spesso a contatto di quelli che sono i maltrattamenti domestici. Ho fatto parte del Codice Rosa, venendo dalla provincia di Grosseto, quello che è stato il primo nucleo del Codice Rosa, che poi si è ampliato e che è stato esportato come modello in tutto il mondo. Io ho conosciuto donne che per un pugno hanno avuto la mandibola rotta, donne che per uno strattone hanno avuto il polso rotto e devo dire la verità, che molto spesso, specie se si parla di località più piccole, magari più che l'abuso e per fortuna più che il femminicidio, quello che succede più frequentemente è il maltrattamento. E oserei dire che il problema comincia da lì. Quindi intanto riconosciamo i segni di chi sta accanto a noi. E quando un uomo si accorge di avere una rabbia intensa verso quella che è la propria compagna e le sue abitudini, deve sapere che ci sono dei centri per gli uomini maltrattanti, in cui si impara, dove gli uomini possano imparare, a gestire in maniera diversa la loro rabbia. Ho chiesto un minuto di raccoglimento dopo aver letto una delle frasi che è stata letta dalla sorella di Giulia Cecchin e che parla del patriarcato. Perché è una riflessione che ciascuno di noi può e deve fare. Perché ci possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene, ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge, nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini, ma vale per tutti quanti, il rispetto del prossimo. Il femminicidio è un delitto orribile perché è contrario all'umanità e soprattutto la cosa più terribile è che è il frutto malato di una società che, come è stato detto, non deve vedere in queste persone dei mostri, delle persone che sono isolate, che quindi in qualche modo vanno contenute. Perché, lo ripeto ancora, ciò che avviene, lo stalking, i maltrattamenti delle donne, è il frutto malato di una società che non riesce a considerare le due metà del cielo equidistanti e soprattutto alla pari. Quindi dobbiamo fare uno sforzo ciascuno di noi come istituzioni, ma anche come singoli. Questo spero che sia il messaggio che riesca a parlare. E soprattutto che ogni femminicidio che accade, fosse anche uno, è sempre troppo. È sempre una sconfitta dell'intera società, uomini e donne. Indubbiamente siamo di fronte a un tema che è assolutamente legato alla cultura di oggi. Ci sono diversi ambiti, secondo me, dove si forma quella che è la cultura del rispetto, anche nei confronti delle figure femminili. La famiglia sicuramente è un caposaldo su cui oggi, onestamente, quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato, ho qualche dubbio perché molto spesso quella famiglia arcaica, quella famiglia che rappresentava dei valori, delle tradizioni, che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato, un tempo rappresentava forse un nucleo di valori, un nucleo di principi che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare, anziché, come dire, andare a trovare un capo ispiratorio, ripeto, non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e centi punti di riferimento. È chiaro che in un contesto in cui tutto quanto è stato relativizzato, compreso la possibilità oggi di un adolescente di dichiararsi uomo o donna a seconda della sua, come dire, sensibilità del giorno, viviamo in un mondo in cui purtroppo anche la violenza nei confronti di una ragazza, una violenza che si è manifestata in modo brutale, di un giovane, del quale potremmo indagare all'infinito le motivazioni, ma non riusciremo mai a comprenderle fino in fondo se non guardandoci davvero intorno e interrogandoci tutti, anche come genitori e anche nel momento in cui i nostri ragazzi, i nostri bambini vanno a scuola, su ciò che noi riusciamo a trasmettere loro, perché questa è la nostra vera sfida, una sfida culturale, una sfida familiare, una sfida di recupero dei valori complessivi. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza le modifiche alla nota di aggiornamento al DEFRE 2023, la terza variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-2025 e gli interventi normativi collegati. Gli atti, che sono stati integrati con un maxiemendamento presentato dal Presidente della Giunta Eugenio Gianni, sono passati con il voto favorevole di PD e Taliaviva e il voto contrario delle opposizioni, respinte le proposte di risoluzione presentate dal gruppo della Lega collegata al DEFRE, ordini del giorno ed emendamenti di Lega e Fratelli d'Italia, la terza variazione di bilancio. Siamo in variazione di bilancio, l'ultima variazione di bilancio prima della fine dell'anno e quindi a fronte di vari consiglieri di maggioranza, di opposizione, che mi chiedevano di intervenire convertendo risorse che avevano la loro destinazione già prevista da tempo, abbiamo fatto questo sforzo e abbiamo individuato 25 milioni che derivano alcuni dalla rimodulazione di fondi del FES, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e si tratta in questo caso di 6 milioni per le imprese, ovvero a fondo perduto, 6 milioni a carico di interessi o oneri su prestiti o mutui. Poi abbiamo una previsione concreta sotto questo aspetto di 7 milioni e 56 che sono specifici per i fondi relativi all'agricoltura, uno per rimediare a quelli che sono dissesti, l'altro che nascono dal Fondo di Solidarietà che quindi abbiamo spostato in questo pacchetto di misure. Vi è poi 6 milioni che non sono immediatamente nel bilancio ma che attraverso questi emendamenti al DEFRE noi richiamiamo perché possano essere messi in quello che è un bilancio già in indignere, quello di previsione 2024 che abbiamo portato l'indigno in giunta e sono 6 milioni a fondo perduto per i cittadini. Per noi questa variazione di bilancio è importante anche per dare un primo segnale forte, importante a chi sta soffrendo, alle imprese alluvionate, alle famiglie che hanno perso la propria casa. In questa variazione di bilancio noi decidiamo di destinare 6 milioni di euro a fondo perduto alle famiglie, 6 alle imprese, 7 milioni alle imprese agricole e facciamo accesso. Io l'ho chiesto da subito, subito nei primi giorni dell'alluvione al Fondo di Solidarietà europeo per 50 milioni di euro. La stessa richiesta, la stessa osservazione porterò al Comitato delle Regioni della prossima settimana a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane. D'altro canto però facciamo un appello anche al Governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. Guardate, i primi dati ci dicono che siamo nell'ordine dei 3-4 miliardi di euro di danni. Noi mettiamo subito le cifre che ho detto, ma non bastano, sono davvero solo risorse per l'emergenza. Come Consiglio regionale metteremo diverse risorse che restano dall'avanzo di amministrazione per sostenere i comuni colpiti. Però dobbiamo fare di più e quindi chiediamo al Governo che faccia velocemente la propria parte. Una variazione di bilancio che Tel Aviva ha sostenuto con convinzione, un equilibrio dei conti che è fondamentale, mette in sicurezza i conti del 2023, soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità, nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi, mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati. Quindi una variazione di bilancio importante, un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia d'Italia Viva di tenere i conti in equilibrio della regione toscana si può fare senza aumentare le tasse. Il 2023 quindi si conclude con un anno che per la terza volta consecutiva porta i conti in equilibrio di bilancio, soprattutto senza chiedere nessun sacrificio a cittadini toscani. Eravamo pronti e ci siamo riuniti, abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti essendo felici, perché noi eravamo felici, del fatto che il governatore e la regione toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati. Ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti, abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono, sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale, quindi buoni intenti, un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione, che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico, ma siamo veramente arrabbiati, indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionati. In maniera seria abbiamo studiato le modalità di farli creare un fondo parallelo a quello nazionale, abbiamo addirittura presentato emendamenti variabili, perché questo fondo può essere fatto da un minimo di un milione di euro a un massimo di 10, quindi da un quinto del fondo nazionale che già esiste al doppio del fondo nazionale che già esiste. Va studiato in base alle possibilità di spesa, perché capiamo bene che è un fondo che dovrebbe essere speso da oggi al 31 dicembre, quindi può darsi anche che 10 milioni rischierebbero di non essere spesi tutti e 10, quindi magari dovrebbe essere semplicemente un'integrazione. A cosa servivano questi soldi? Servivano a ristorare quelle famiglie che hanno perso tutto e che ad oggi non possono essere ristorate, perché i 5 milioni stanziati, ricordiamolo e sottolineamolo, dal governo nazionale alla regione toscana fino ad oggi servono come primo ristoro per chi ha l'abitazione inagibile, quindi se tu hai perso l'automobile, la moto, il garage, la taverna, la pertinenza di casa non sei ristorato, quindi il nostro fondo andava ad integrare il fondo nazionale per andare a dare un ristoro a chi aveva perso parte della propria abitazione.